Rilanciare il settore di ILE creando un borsino dei crediti fiscali attraverso procedure che garantiscano sia l'impresa cedente che l'impresa cessionaria. E' questo l'obiettivo dell'accordo che sarà sottoscritto il prossimo martedì 28 febbraio tra Ance, Teramo e Confindustria. Nello specifico si va a favorire la cessione dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi tra le imprese aderenti alle due associazioni, senza intermediari e con l'assistenza di operatori professionali qualificati. Per derimere il problema ormai noto a tutti della cessione dei crediti abbiamo pensato di organizzare insieme a Confindustria che si è resa disponibile a sanare questa problematica abbiamo redatto un protocollo di intenti che andremo a firmare il 28 al Blue Palace dove ci sarà un raccordo tra la domanda e l'offerta. Cioè le imprese che hanno i famosi crediti già sul cassetto fiscale o che stanno maturando li si potrebbero cedere alle industrie che ne hanno bisogno perché hanno la capienza fiscale per poter adoperare i crediti acquisiti e perciò ci potrebbe essere un vantaggio da tutte e due le parti. Questo rappresenta ovviamente per voi in primis una boccata d'ossigeno visto che il problema del cassetto fiscale pieno è diventato una problematica molto seria. Sì sicuramente anche perché il governo in tal senso sta promettendo ma ad oggi non ha trovato una via di uscita e noi ci stiamo adoperando appunto per uscire dall'impasse. In provincia di Teramo sono ad oggi circa 150 le imprese in sofferenza, un'operazione che permetterà di dare un nuovo slancio al settore edile, una collaborazione tra imprese per superare le numerose difficoltà assorte nella circolazione di questa moneta fiscale nel sistema finanziario che può offrire benefici ad entrambe le parti del contratto. L'intenzione è proprio quella dove le industrie si prendono le proprie responsabilità nel affiancare appunto tutto il mondo ance affinché questo possa ripartire vigorosamente così come è stato all'inizio. Possiamo dire quindi l'unione tra la forza? Sempre, specialmente se questa unione è un'unione win to win, cioè dà dei benefici sia alla parte confindustriale sia alla parte ance. Soprattutto pensando che, come certificato anche da Banca Italia, il 50% di tutti gli investimenti che sono stati fatti nel mondo delle costruzioni è stato dovuto grazie al super bonus e al 110 e quindi questo già ci fa sperare che la ripresa dovrebbe essere abbastanza forte.